Gara 2 di playoff e promozione al Recchioni, di fronte Vis Pesaro e Fermana. Canarini che partono subito di gran carriera al primo con Paris pronto a mettere dentro un pallone controllato a fatica dalla difesa bianco-rossa. Subito avanti la Vis Pesaro all'ottavo con Bellucci il quale gela la tifoseria canarina mettendo il cuoio alle spalle del numero uno Castorani. Al nono angolo di Paris e da destra palla in area difesa bianco-rossa che libera senza difficoltà. Decimo parlato impegna a terra Fogliera subisce fallo e cani dodicesimo punizione dal limite centrale calcia Paris e barriera bianco-rossa che respinge. Quindicesimo tiro dalla distanza di Zonchetti para a terra Castorani. Gran tiro di parlato miracoleggia Fogliera negando diciassettesimo il gol alla squadra di casa. Commette fallo ai cani diciannovesimo nei confronti di Rossi sulla tre quarti destra calcia lo stesso Rossi la punizione il colpo di testa di Bellucci la sfera non inquadra la porta. Ventitresimo prolungata manovra offensiva della Vis con Uguccioni che scodella il pallone in area. Bellucci gol la bandierina dell'assistente sotto la tribuna si alza inesorabile gol annullato. Qualche protesta cerca la via della rete alla fermana si interrompe il gioco per un paio di minuti per l'infortunio capitato a Santini. Ventisettesimo tre minuti dopo verrà sostituito da Cencioni. Colpo di testa ventinovesimo di Tomeo il portiere Fogliera non sbaglia l'intervento. 33 calcio di rigore fallo di Uguccioni nei confronti di Tomeo che dagli 11 metri prova la trasformazione Fogliera gliela nega occasionissima bruciata da parte dei Canarini. Cresce la fermana la retroguardia della Vis chiude ogni varco. Trentottesimo Francia dalla destra prova la conclusione dalla distanza ma non ha fortuna. Fiorotto quarantesimo lascia per infortunio lo sostituisce Draga. Il tiro di Torelli 43 regala un angolo dal quale la visse va ad un passo dal raddoppio. La traversa dice no al colpo di testa di Cencioni. Si rifugia in calcio d'angolo la fermana al quarantasettesimo ma non c'è tempo per batterlo. La seconda parte della gara si avvia al sesto con un calcio di punizione sulla corsia di destra. Un paio di metri dal limite dell'area calcia pari sei cani di testa vicinissimo al gol. Con il passare dei minuti Vis è sempre più attenta il pareggio della fermana. Lancio di Vitali per Recani quindicesimo fa rifiorire l'entusiasmo della tifoseria. La fermana ci crede. Grantino di Vitali ventesimo dalla distanza centrale para Fogliera con sicurezza. Punizione da sinistra ventiquattresimo a qualche metro da linea di fondo calcia rossi. Qualche problema per la difesa canarina che alla fine libera. Rosso per Morbidoni al ventinovesimo fallo su Rossi fermani in dieci per il quarto d'ora finale. E Cani trentasettesimo prova ad affondare ma non ha successo. Paris trentottesimo vicino al gol ma la difesa vissina in qualche modo si salva. Tomeo non riesce a concludere. Quattattresimo la difesa ospiti gli mette la palla in fallo laterale. Con il rosso finale nei confronti di Paris si chiudono i playoff della fermana.